Avendo discorso nella trasmissione ancora condotta dal collega Franco Gallo, l'esponente del megafono Enrico Vella ha sostenuto in maniera pubblica che in occasione proprio dell'amministrativa non ha fatto votare il sindaco uscente Fasulo. Lei ne era al corrente? No, il megafono era un alleato, io ritengo un alleato assolutamente fedele al sindaco Fasulo come l'intera coalizione. Mi hanno raccontato qualcosa, non sono riuscito a vedere la trasmissione ma penso che sia stato forse uno sfogo che non è compatibile con quanto è successo secondo me in campagna elettorale. E' stato forse un momento di rabbia dovuto ad un dibattito che forse aveva assunto una tensione particolare. Però è pur vero che quando l'esponente del megafono, dunque ci rivediamo a Crocetta, non fa votare il candidato del PD, è tutto a dire. Guardi, io non credo a questa dichiarazione. Ma l'ha detto lui, non lo diciamo noi. Penso che sia frutto, possibilmente, mi auguro che sia frutto, di un momento di tensione causata dal dibattito forse. Quindi voglio ancora credere che si tratti di un momento di tensione dovuto ad il dibattito perché la campagna elettorale si è svolta con una coalizione e l'intera coalizione aveva il dovere e penso che ha sostenuto Fasulo. Poi se ci sono stati dei momenti di tensione che sono scaturiti in azioni improprie, guardi, queste certamente non sono liete da ascoltare, ma ritengo e ne sono convinto, anche perché, anche se non sono di Gela, ma sono sempre il segretario provinciale, ho seguito la campagna elettorale, io ricordo che proprio l'esponente del megafono al quale lei fa riferimento ha organizzato molte riunioni al sindaco Fasulo, questo lo ricordiamo tutti. Poi le dichiarazioni postume vanno prese con le pinze. Ma lei ci ha parlato con Enrico Vella? No. Ha intenzione di parlare e dunque di capire esattamente a chi ha fatto votare? Ma io non penso che oggi sia il caso di capire chi ha fatto votare o no. Io sono convinto che la coalizione, nelle sue diverse sensibilità, abbia sostenuto con lealtà Fasulo. Se poi ci sono state delle incomprensioni, ripeto, ormai è trascorso un anno e penso che vadano archiviate. Però è un PD, in tutta sincerità, dilaniato quello che c'è a Gela. Due segretari, due circoli. Guardi, c'è un segretario, non ci sono due segretari, lo sta dicendo lei. Qua si è svolto un congresso che ha eletto un segretario. L'unico segretario che è stato eletto secondo le norme statutarie si chiama Giuseppe Di Cristina. Questa è dei due segretari. Peraltro io ho sentito, mi hanno riferito dalle dichiarazioni rilasciate proprio a Canale 10 dal segretario del circolo che avrebbe indetto questo contro congresso che ha parlato proprio di una provocazione. Ha detto che non esiste, mi pare, posso anche sbagliare, posso anche aver interpretato male o è possibile che mi abbiano riferito male. Ma per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la segreteria provinciale, per quanto riguarda la segretaria regionale, le assicuro che il segretario di Gela è uno e si chiama Giuseppe Di Cristina, salvo decisioni diverse dagli organismi di garanzia che mi pare già si siano, almeno uno, si è pronunziato in maniera conforme al congresso che si è celebrato. I congressi si celebrano secondo le norme statutarie, poi si possono contestare eccetera eccetera ma le contestazioni poi alla fine rientrano e io penso che rientrerà anche questa.